A venire qua con me rappresenta l'RSU della Crono Brense, che è un'azienda che abbiamo ad Arcore, che ha seri problemi di occupazione, noi ci siamo messi in campo come amministrazione coinvolgendo la nostra parte politica, il consigliere regionale Enrico Brambilla, scusate, però volevamo condividere con voi questo enorme problema che abbiamo, che è il problema del lavoro, che è veramente difficile da approcciare, ed è questa proprio la difficoltà. A noi mancano gli elementi come amministrazione per poter anche approcciare il discorso e l'argomento del lavoro. Luca, a te. Crono Brense è una multinazionale tedesca che si è insegnata in questo territorio stabilmente da ormai quasi vent'anni. Corrego, Piero, non è un'azienda in crisi, anzi è un'azienda che ha più che raddoppiato gli utili in un anno, è un'azienda che come tante altre multinazionali, ahimè, sta operando una scelta di delocalizzazione.